Buongiorno, io voglio parlare della mia famiglia perché perché noi abbiamo fatto una casa grande anche la famiglia più grande ti faccio vedere io sono questo, mia sorella questa, mio papà questo, mia mamma questa, mio fratello, il mio cane bricciola questo un segno d'amore da unico figlio che abbia apportato fortuna speriamo che poterci tornare forti, uscire forti come prima e soprattutto che questa famiglia è stupenda e voglio vedere tranquillità questa famiglia, questa più bella del mondo, la mia famiglia grazie grazie